Io vorrei provare a intervenire su questo, che è sostanzialmente alcune idee, o perlomeno le idee che per quanto mi riguarda sono le idee guida per ragionare sui processi di inclusione dei migranti, a partire da quello che è il tema sostanzialmente delle forme di integrazione o di inclusione sociale e delle discussioni che sono avvenute anche in questi mesi in Italia a proposito del velo, piuttosto che della compatibilità e incompatibilità delle culture, di queste cose. Su quello l'unica battuta che direi è questa, io penso che le politiche sinoggi fatte sull'immigrazione sono politiche che hanno combattuto i clandestini e alimentato la clandestinità. Io penso che dobbiamo rovesciare, dobbiamo combattere la clandestinità e non i clandestini, combattere la clandestinità tentando di portare questo fenomeno, che è un fenomeno strutturale, che ha ragioni sia nella disparità di ricchezza tra i paesi e le regioni, sia trova un suo fondamento nella richiesta di lavoratori da parte del nostro sistema produttivo, e quindi credo che il punto sia questo, di lavorare alla riduzione della clandestinità e invece alla piena salvaguardia, o meglio, alla costruzione dei diritti.